Aprire l'applicazione Gmail. Selezionare Aggiungi un indirizzo email. Cliccare su Altro. Digitare l'indirizzo email completo della casella da configurare. Cliccare su Avanti. Scegliere l'opzione POP3. Digitare la relativa password della casella da configurare. Cliccare su Avanti. Nel campo Server, digitare pop3s.aruba.it. Cliccare su Avanti. Nel campo Server SMTP, digitare smtps.aruba.it. Cliccare su Avanti. Cliccare nuovamente su Avanti. Attendere qualche istante. Nel campo Nome, digitare il nome che si desidera far visualizzare per i messaggi inviati. Ed infine, cliccare su Avanti per completare la configurazione. Grazie a tutti.